salve ragazze buona domenica a tutte eccoci con un nuovo video intanto vediamo il trucco cosa utilizzato per realizzare il trucco di oggi partiamo dalla base come al solito ormai sono dei prodotti che utilizzo sempre collaudati ho utilizzato la cc cream della mac per me questo è un prodotto insostituibile da quando l'ho acquistata devo dire che l'utilizzo sempre e non mi lascia mai a piedi nel senso che comunque uniforma l'incarnato è davvero un prodotto ottimo costicchia però devo dire che ne vale la pena oltretutto ve ne avevo già parlato considerate che ha un spf 30 e questo è molto ma molto importante come fondotinta ho utilizzato il solito fondotinta del periodo della kiko universal fit fondotinta idratante nella colorazione warm warm beige 90 vi avevo già detto che hanno cambiato le colorazioni io ho cercato di trovare quella più simile al fondotinta che ho utilizzato in passato e devo dire che mi sono trovata mi trovo bene come colore la novità è che il fondotinta l'ho applicato con questo pennello il pennello tipico diciamo per applicare il fondotinta penso a lingua di gatto penso che venga così definito l'appena lavato è un pennello no brand che avevo acquistato un bel po di tempo fa forse due anni fa e l'ho ritirato fuori perché mi sono ricordata che in occasione di una mia visita alla mac di bologna la makeup artist mi aveva truccato utilizzando appunto questo pennello e devo dire che stende il fondotinta molto ma molto bene in modo uniforme mi piace davvero molto e penso che per adesso il fondotinta lo applicherò con questo pennello come correttore ho utilizzato il correttore della kiko il full coverage nella nella colorazione 02 questo lo conoscete tutti è un po è molto compatto però ho capito che va scaldato e devo dire che copre davvero gli occhiaie la cipria una spolverata di questa cipria della maybelline compact power matte perfect natural nella colorazione 02 rose ivori poi ho utilizzato la mia solita terra che è appunto questa della elan nella colorazione faggio che appunto questa ve ne avevo già parlato si intravede la parte finale perché la sto utilizzando davvero tanto poi ho utilizzato questa palettina della wicon e in particolare ho utilizzato l'illuminante no che poi è questo ragazze l'illuminante come fard e questa è una diciamo scoperta nel senso che era un prodotto che avevo da tempo ma che non utilizzavo e nel riordinare la mia postazione trucco niente l'ho trovato e mi sono domandata come utilizzarlo e l'ho utilizzato e questo prodottino della kiko di una vecchia collezione edizione limitata la un touch nella colorazione 0 5 in questa formula cremosa ecco è un bellissimo colore ed è appunto un brush in crema che può essere utilizzato anche sulle labbra e niente l'ho riscoperto e l'ho utilizzato un po qui sugli zigomi per quanto riguarda il trucco occhi ho utilizzato come base il penterly prolonger il solito della mac vedete che c'è anche il buco perché uniforma la palpebra insomma per me è un prodotto davvero ottimo poi ho utilizzato questo ombrettino della essence che avevo da tempo il numero 14 chili vaniglia ecco questo poi ho utilizzato della mac questo ombrettino sul violaceo che mi piace moltissimo come liner ho utilizzato il gel della essence nella colorazione 01 ecco vedete ne ho utilizzato un bel po e spero di smaltirlo ho utilizzato poi questa matita nella parte inferiore dell'occhio la long lasting della wicon nella colorazione 0 7 che è appunto questo violaceo e poi ho sfumato il tutto con il crave della palettina della naked basic venendo alle labbra intanto vi faccio vedere una new entry che non ho utilizzato oggi che però ho acquistato in questi giorni e tra l'altro era in combo e questo rossetto della max factor nella colorazione 36 pearl maron io non so se si pronuncia così ed è questo colore bellissimo con delle perle scienze dorate che appunto veniva venduto in combo con questa matita la matita che è un nude devo dire la verità che in combo non li vedo nel senso che non mi piace come abbinata però la matita io già ne avevo e ce ne ho me ne è rimasta un po' e mi piace moltissimo ed è lo 0 6 per cui l'ho acquistato mi piaceva il rossetto intanto ne ho approfittato perché comunque il prezzo era molto buono allora per le labbra ho utilizzato appunto questa matita della max factor con questo rossetto che avevo acquistato tempo fa della maybelline che è il 930 matt che è appunto un nude perfetto ragazze questo era il trucco di oggi io vi saluto e vi auguro buona domenica ciao 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 ciao